Il tutorial che voglio proporvi oggi riguarda uno scialle realizzato all'uncinetto in cotone. Io ho scelto di realizzarlo con questo carina print tutto sfumato, è un uncinetto numero 4, è uno scialle semplicissimo che avrà il suo punto focale di particolarità proprio nel colore che andrete a scegliere per realizzarlo. Ecco, è uno scialle lavorato con catenelle, maglie basse e maglie alte, semplicissimo veramente. Vi mostro come iniziare la lavorazione. Allora facciamo un anellino magico, prendiamo il nostro filo e facciamo subito 8 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Formiamo il nostro primo archetto con una maglia bassa, lavorando una maglia bassa. Ora facciamo cinque catenelle e una maglia alta per chiudere il nostro primo giro. Ecco qua. A questo punto possiamo stringere il nostro anellino magico, in modo che lo chiudiamo e sparisce l'inizio della lavorazione. Per passare al giro successivo dobbiamo lavorare 8 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Giriamo il lavoro e formiamo il primo archetto di questo nuovo giro, facendo una maglia bassa, prendendo il centro dell'archetto sottostante. Ora facciamo cinque catenelle, una, due, tre, quattro, cinque e facciamo una maglia bassa nell'arche, al centro dell'archetto successivo. Abbiamo il nostro secondo archetto. Per terminare, il nostro ultimo archetto di aumento, facciamo cinque catenelle e una maglia alta. Ecco qua. Il secondo giro è formato da tre archetti. Si continua sempre in questa maniera, cioè non ci si può sbagliare perché lo scialle è composto soltanto da questi passaggi. Quindi, per passare al giro successivo, facciamo otto catenelle. Voltiamo il lavoro. Con una maglia bassa diamo vita al primo archetto. 5 catenelle nell'archetto successivo facciamo la nostra maglia bassa ed abbiamo un nuovo archetto. Continuiamo. 5 catenelle maglia bassa maglia bassa nell'archetto successivo. L'ultimo archetto è composto da 5 catenelle e una maglia alta finale lavorato sempre nell'archetto sottostante. una, un passaggio, due passaggi per la maglia alta. Ecco qua. In questo modo avremo sempre due archetti in più laterali e quelli centrali che si formano prendendo la maglia bassa nell'archetto sottostante. facciamo un ultimo giro e quindi ricordatevi le 8 catenelle iniziali per voltare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 voltiamo il lavoro maglia bassa maglia bassa nell'archetto sottostante cioè al centro 5 catenelle per l'archetto successivo che andremo a fermare con una maglia bassa al centro dell'archetto sottostante di nuovo 5 catenelle e le fermiamo con una maglia bassa al centro dell'archetto successivo di nuovo 5 catenelle le fermiamo con la maglia bassa nell'ultimo archetto del giro precedente e ora facciamo l'archetto d'aumento laterale che è composto da 5 catenelle e una maglia alta sempre che la si lavora sempre nell'ultimo archetto del giro sottostante ecco come potete vedere lo scialle va aumentando man mano che aumentano i giri il filo sfumato secondo me è adattissimo per questo tipo di lavorazione che è già di per sé molto semplice e quindi l'alternanza alla sfumatura dei colori lo renderà molto più particolare rispetto ad una tinta unita poi è sempre una questione di gusti questo scialle può essere realizzato sia in lana che in cotone in questo caso io l'ho fatto in cotone visto che andiamo verso la bella stagione e potrà essere utilizzato benissimo anche come pareo per la spiaggia dunque vi ricordo che potete utilizzare all'incirca un 200 grammi di filato da lavorare con il numero 4 un uncinetto numero 4 poi e questo è sempre una cosa soggettiva perché in base alla dimensione che preferite potete continuare a utilizzare il filato quindi aumentare anche la quantità di gomitoli io utilizzerò per il mio scialle 4 gomitoli da 50 grammi di questo filato tutto sfumato sui toni dell'arancio e del fucsia ok avete visto questo tutorial molto breve perché i punti da lavorare per realizzare lo scialle sono sempre gli stessi sono quelli proprio basilari dell'uncinetto la catenella maglia bassa e maglia alta ok ragazze spero che vi sia piaciuto questo tipo di scialle da lavorare all'uncinetto e vi rimando al mio prossimo tutorial ciao da Lilla grazie a tutti Grazie a tutti